Bella ragazzi siamo dei Videomakers e ben tornati in questo nuovo video Oggi siamo in questo nuovo gioco, cioè Rocket League, dove te sei una macchina e devi colpire una palla Ora sta trovando una partita e ve lo faremo vedere Ovviamente chi fa più gol vince Faremo un gol per uno, ora inizio io e quando subirò gol giocherà lui O anche farà gol la sua squadra O anche farà gol la mia squadra o la squadra dell'avversario Ogni volta che un giocatore casuale fa un gol si cambia Oggi faremo una partita anche perché dura 6 minuti, una partita 5 minuti E quindi è abbastanza tanto, che non si dice però è abbastanza tanto È iniziata Ora inizio io a giocare In moto schifose Ok una partita dura più o meno 4 minuti, non lo so 5 minuti Mi rispieghi i comandi? Eh sì Ok adesso la partita è iniziata E speriamo di non subire mai gol Allora io prendo lo sprint al 100% Ma non devi fare Spider-Man, devi colpirla la palla Oh, mi hanno fatto bocca Aiuta! Adesso metto lo sprint al 100% Che la manca? E vado, e vado a segnare Guardate No Oddio Madonna Oh l'ho toccata, l'ho toccata So forte, so forte Non devi fare autogol Mamma sono in televisione No, ok No, no, no Tira la via Tira la via Bravo hai preso la palla Grazie Grazie E noi cercheremo di portarveli Molto probabilmente porteremo anche Clash Royale Porteremo anche Slenderman? No, no Sì, vabbè Poi deciderete voi nei commenti se portare Slenderman o no Scrivetemelo sotto Cioè, scrivetecelo sotto nei commenti e noi porteremo Slenderman Io spero di portare Che molto probabilmente non è quell'originale O forse sì Se lo scarichiamo Sì, se riusciamo a scaricarlo Perché È difficile scaricarlo Quell'originale poi sul telefono non è che Ma non sul telefono, sul computer Ah, ok Siamo troppo forti Allora Intanto manca due minuti Non ci si farà mai Ma detto così, eh No, no Potresti farlo Però vi dovete impegnare tutta la squadra E andare tutti Cioè, tirarla sempre su Non verso la vostra porta In un modo ce la potresti fare È tipo no, così Oh Oh, aspetta, aspetta, aspetta Oh, l'ho mandata No, dai, no, no, no Vai, 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 subito, subito che fai gol Ma perché salta? Io non ho saltato, te lo giuro Ah, allora perché metti lo spi... Ah, ora è saltato Ora sì Vai, 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 vai Rubali il gol a quell'altro Ma sei scemo Ma quello l'ha tirata fuori No, dai, ma perché? Perché ho fatto il giro Ma perché quello l'ha tirata fuori Oh, no, oddio, muori Oh, hai preso il turbo al 100% Vai a fare gol, vai a fare gol Per il canale Eh, no, ok L'ho ucciso qualcuno, molto probabilmente Sì, che il lomino dentro la macchina A quest'ora sarà morto Tipo la macchina si chiude Eccolo, ecco Tu, tu, no Ma perché queste cose? Ma vai un po' più avanti e tira Mi serve il turbo Oh, 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 no, no, no Non perché Ora lo c'è Si è perso A me Oddio, 1 minuto e 43 non hai detto tu Se ci fanno il quinto, sì Quarto, non si può mai dire Allora Sicuro Sì, sì, sì Io metto il turbo Vedi, manca poco si fa un gol Cioè, abbiamo Abbiamo rischiato Nooo Perché Ma vai al centro Più 20 Più 20 Più 20 Più 20 Potevo fare gol Nooo Ma sei scarso Ma da BOOM Ho ucciso un ovino Una macchina Morto male Più che un ovino No, no, no Perché, perché Perché ste cose? Ah, hai toccato palla Ah, hai toccato Le botte Allora, se vuoi le botte Basta che mi chiami No, ma sto girando Sembra un mongoloide Se facevi autogol Ma Tommy non fa un mongoloide Una volta l'ho fatto Però una volta Basta Sicuro Sì, sì Non lo so No, ma perché la levi Gesucca a me? Perché si fa autogol? No, dai Non si è fatto autogol Ma perché? Sono molto bravi Ti devi fare sta cosa Autogol Perché? Sono molto bravi Guarda, no, dai Quello voleva essere del blu Eh, e che c'entra? Allora, anche io voglio essere del blu Mi faccio cinquanta Uh, primo tocco Attenzione Mi faccio cinquecento gol Mancata Aspetta Sei scarso Ma cosa so scarso? Sì, sì, sei scarso Aspetta, sto facendo lo spider-man Oddio Ha fatto un salto E nemmeno Hulk lo sapeva fare Che c'entra Hulk? Centra Nove, otto, sette, sei Cinque, quattro Tre Due Uno No Partita finita No, dai Scusate un Hulk almeno uno Almeno uno E il blu purtroppo hanno vinto Ma purtroppo Scrivetevi se questo gioco vi piace E ho intanto sbloccato un'altra macchina Scrivetevi se questo gioco vi piace Lasciate un commento e un mi piace Ho sbagliato tasto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao